29 febbraio 1792, 29 febbraio 2024. Si celebra domani il 232esimo compleanno di Gioachino Rossini e Pesaro fa le cose in grande per omaggiare il suo cittadino Pillustre. Vuoi perché dopo tre non compleanni arriva il corretto compleanno in anno bisestile e vuoi per l'amplificatore di un 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Condizioni che porteranno all'apice serale dell'inaugurazione del nuovo auditorium Scavolini che ad agosto ospiterà anche parte del Rossini Opera Festival. Prima del taglio del nastro ci sarà però una giornata speciale in cui Casa Rossini e Museo Nazionale Rossini offriranno aperture gratuite per l'intera giornata con tanto di omaggio ai visitatori. Museo che ospiterà anche la presentazione dell'attività editoriale della Fondazione Rossini. Celebrazioni che poi non si esauriranno all'auditorium Scavolini perché alle 21 il Conservatorio e il Rossini Opera Festival saranno in scena nella suggestiva cornice del Teatro Rossini con la Messa di Gloria, concerto che già sold out e che sarà affidata all'orchestra al coro del Conservatorio Rossini diretti da Luca Ferrara in un'esibizione che sarà anche l'apertura dell'anno accademico dell'istituzione musicale di Palazzo Livieri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti